Questa iniziativa della Coop, come la giudica? La giudico ottimamente come tutte le iniziative che fa la Coop, che è un supermercato serio, è un'organizzazione seria, quindi noi ci fidiamo molto di tutte le cose a marchio Coop. Io penso che è un'iniziativa positiva perché tutto quello che ha vantaggio del consumatore è gradito e poi questa è una cosa che riguarda le donne, quindi ancora di più. Una cosa giusta, visto che non sono beni di lusso, ma sono proprio beni di primaria necessità. Un'iniziativa molto positiva, anche perché finalmente anche qui dovrebbero togliere l'IVA come in altri posti che si sta facendo e questa iniziativa della Coop è molto conveniente e utile per noi. Credo sì che sui beni di largo consumo abbassare l'IVA sarebbe un'ottima cosa. Siccome gli assorbenti sono comunque un bene di largo consumo, credo che la proposta sia più che valida. Ne penso bene perché finalmente qualcuno ha pensato di mettere gli occhi su questo aspetto, cioè sul fatto che stiamo pagando l'IVA più alta, l'alliquota al 22% su un prodotto che è di uso quotidiano, comune e quindi ingiusto. Mi auguro che altre insegne lo facciano, altre attività, perché se risparmiamo noi donne risparmiano tutti, risparmiano le famiglie, risparmiano la collettività, è anche una questione di giustizia.